Il 2018 si conclude con un bilancio particolarmente positivo per i carabinieri di Agrigento, agli ordini del colonnello Giovanni Pellegrino, con una generalizzata flessione dei reati più allarmanti ed un incremento del 23% di arresti rispetto alla 2017, la maggior parte dei quali in flagranza di reato e poi con la riduzione in provincia delle estorsioni, il ridimensionamento del 19% delle rapine e del 14% degli atti incendiari. E in occasione dei quattro omicidi avvenuti nella provincia per cui hanno investigato i carabinieri, i responsabili sono stati scoperti e arrestati. Poi altri risultati di rilievo sono stati conseguiti sulle versante del commercio abusivo con, tra l'altro, il recupero della fruibilità da parte degli agrigentini e dei turisti della passeggiata sul litorale di San Leone e, più recentemente, nella lotta all'abbandono incontrollato per strada dei rifiuti con il sequestro di cumuli di rifiuti e di scariche abusive e con sanzioni per oltre 210 mila euro. Sono stati oltre 500 gli interventi effettuati dai carabinieri di Agrigento in occasione dell'alluvione del 3 novembre scorso, in cui decine di persone sono state salvate dal generoso intervento di oltre 200 militari. E poi 140 mila ore di pattuglie per lustrazioni svolte dall'inizio dell'anno hanno determinato il controllo di oltre 60 mila soggetti e di quasi 40 mila veicoli. Massima attenzione è stata prestata ai reati contro la pubblica amministrazione, la corruzione e poi la violenza sulle donne, l'immigrazione, la sicurezza antiterrorismo, oltre che su un piano preventivo e repressivo dei reati predatori. E poi la sicurezza sui luoghi di lavoro, l'aggressione al caporalato e lo spaccio di sostanze stupefacenti, con oltre 150 spacciatori arrestati in provincia e con enormi quantitativi di droga sequestrati. An esempio il sequestro in un solo colpo di una maxi piantagione di marijuana a Campobello di Licata, con la distruzione di oltre 30 tonnellate di stupefacente. E poi la maxi operazione antimafia Montagna il 22 gennaio 2018, ad opera dei carabinieri del reparto operativo che ha decapitato i vertici di tre mandamenti mafiosi e di 16 famiglie ad essi collegate. Con il contestuale sequestro di oltre un milione e mezzo di euro e lo scioglimento per infiltrazioni mafiose di uno dei comuni interessati dalle indagini. E poi oltre 50 attività di ristorazione oggetto di provvedimenti sanzionatori per circa 200 mila euro, con il sequestro di oltre 5 tonnellate di alimenti mal conservati. E poi i controlli alle sale giochi con decine di slot machine sequestrate e centinaia di migliaia di euro di sanzioni ai gestori irregolari. E poi l'attenzione è più giovani, con oltre 6 mila studenti incontrati in tutta la provincia nel corso di tanti incontri nelle scuole su bullismo, cyberbullismo, droga, guida sicura, violenza di genere, ludopatia e rispetto dell'ambiente.